wow alla faccia della velocità supersonica di spuso è già arrivata la sim oggi sto registrando il 23 settembre è già arrivata la busta con all'interno la sim di spuso all'interno c'è ci sono due fogli di cui uno lo tenete voi l'altro lo firmate gli mettete la data e lo firmate magari se non lo sa il corriere bartolini mi è arrivato glielo lasciate a lui con copia del vostro documento di identità troveremo la busta con all'interno la sim qui abbiamo 1 e 2 questo è il codice qui c'è il codice cliente qui c'è il numero di telefono io ho fatto la portabilità quindi questo numero cambierà fantastico da oggi fai parte di spuso anche tu in questo documento trovi tutte le informazioni importanti per attivare la tua sim spuso e poi spiega come attivarla per attivare la tua scheda sim inserisci la nel tuo cellulare e invia il codice riportato nella conferma d'ordine tramite sms al numero 378 0 10 1 0 0 1 poi eventualmente ci sono due qr code dove uno c'è un video tutorial per l'attivazione dove fare vedere l'attivazione della della sim e poi sotto invece c'è riportato se non dovesse farlo automaticamente il cellulare impostare le ap n sotto c'è come si inseriscono quindi nome spuso qua e poi basta inserire nella voce ap n la scritta web bene stacchiamo la sim ecco qua dietro bene in evidenza non c'è non è coperto da niente c'è vabbè il codice pin il codice puc con il numero seriale icc id allora la prima cosa che volevo fare era quella su web quindi andare sul sito della di dispuso andare su mai spuso e inserire questi dati quindi qui dovrò inserire il mio numero di telefono e la password che ho inserito nel momento della registrazione sotto ci dice nel tuo profilo mai spuso puoi visualizzare il tuo consumo attuale gestire la soglia costi e la tua scheda sim impostare personalizzare la segreteria telefonica e servizi a pagamento controllare il riepilogo dei costi o anche cambiare il metodo di pagamento quello che poi dovrò fare molto bene vado a inserire il numero di telefono che c'è qui e la password login eccomi qua sono all'interno qui si vede il numero di telefono che poi cambierà il credito della prepagata e poi va bene il codice cliente allora consumo a tariffa poi vediamo un po controllo costi e qui vediamo roaming dati servizi a pagamento che sono disattivati e attivato chiamate sms dall'italia verso paese extra europei impostazioni abbiamo bene nome della carta notifica tramite sms rom in trasferimento di chiamata e qui ha disattivato segreteria telefonica attiva notifica tramite sms poi qui si può inserire la propria mail sms in caso di chiamate senza rete saluto personalizzato utilizza saluto personalizzato scegli il file quindi si può anche personalizzare un po il tutto riepilogo costi qui ci sono le spese però io voglio andare a vedere dove posso andare a cambiare il metodo di pagamento ok trovato il metodo di pagamento lo si cambia qui dove c'è scritto i miei dati e dal di qui possiamo andare a cambiare il metodo adesso è su carta di credito o debito io metto ricarica manuale e poi lo andrò a salvare lo salvato vado a ricontrollare esatto ed è ricarica manuale quindi qua già siamo a posto molto molto semplice intuitivo molto molto bene adesso vado spengo il telefono inserisco la la sim dispuso e lo riaccendo poi invierò il codice di attivazione che mi è arrivato il codice di attivazione e mi è arrivato immediatamente quindi la risposta gentile cliente la tua scheda sim è attiva cordiali saluto il tuo team spuso ok sono dovuto andare a come vedi sono dovuto andare a ad aggiungere la pn automaticamente perché non me l'ha letto vedo un h più non mi dà un 4g io posso aspettare anche un attimino un cincinino però vedo anche il segnale di la facciamo via lo speed test facciamo connessione e vediamo questo spuso a quanto mi va molto molto veloce vi ricordo che sotto copertura win 3 e come vi ho già fatto vedere in altri video qui ragazzi la connessione da me è veramente critica con gli altri gestori qua quella che va meglio all'interno di casa mia è vodafone non c'è niente da fare 2.30 e 1 e 47 ragazzi c'è veramente veramente è così qui e la connessione win 3 è scarsa riprovo siamo lì non cambia più di tanto proverò la proverò magari fuori di casa vedrò un po in giro a che velocità sicuramente darà molto molto più veloce però come vedete qui all'interno di casa mia non è un'ottima alternativa per quello che vi dico sempre che non c'è la sim la migliore sim perché come vedete io posso consigliarvi spuso perché a questo punto il servizio è stato ottimo è arrivato si è attivato immediatamente tutto quello che volete hanno una chat cordialissimi anche il supporto tutto quello che volete ma se io devo viaggiare con questa velocità qui non posso almeno nel mio caso non posso andare con questa velocità qui 3.06 in download è 1.07 il ping è anche abbastanza altino di 75 millisecondi quindi come vedete bisogna sempre valutare in base a dove siete dove la dovete utilizzare questa benedetta sim qui non prende tanto un po come tutte quindi win 3 team se non peggio di questa qui quindi vodafone è quella che va meglio e poi c'è iliad che ai tempi andava arrivava fino ai 15 e adesso un po calato adesso voglio per curiosità voglio vedere a quanto a quanto va iliad in questo momento Sara grazie 3 secondi insomma dai 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 speed test speed test iliad in questo momento perché sto provando spuso che va è veramente è una bomba è una bomba cioè che esplode che non va proprio una che non va una mazza e stai andando nello speed test facciamo vai e così in diretta zinca guarda zinca srl è sempre lo stesso guardate ha migliorato ha migliorato si è aumentato un cincinino altra volta arrivava 3 è aumentato allora dai primi tempi no arrivava sui 15 adesso ultimamente era sui sui 3 4 adesso invece sta andando un pelino di più dai 9 51 5 97 proviamo un altro rifacciamo di nuovo dai via sempre zinca srl e vediamo quanto va iliad sembrerebbe che stia guarda sta andando meglio di win 3 vuoi dire quindi è aumentato quindi prima non va bene poi perché fai quella faccia lì ah non lo so te dirai è la mia che la faccia ok vabbè dai 9 42 siamo sui 10 6 7 in upload e va bene noi la ringraziamo per il contributo grazie arrivederci bene allora riprovo ho visto che andava iliad andava che a misere sono rimasto anche stupito di questa cosa e siamo quasi a 10 via facciamo subito quello dispuso poi sono anche due telefoni diversi se vogliamo essere pignoni però questo telefono qui è molto più performante di quell'altro questo un s un s 9 z plus quell'altro è un a 5 quindi in teoria se mettessi il la sim iliad sul mio telefono qualche un cincinino andrebbe anche un po più forte come vedete qui siamo 4 20 2 2 30 2 40 in upload il ping sempre 75 di là non ho letto e non ho letto il ping però l'avrete visto nella nella registrazione bene che dire allora dovremmo andare a vedere anche l'app di spuso andiamo a vedere adesso io non so a quanto solo di registrazione sono già un botto sono quasi già a mezz'ora pensate un po e poi così capite anche tutti i tagli tutti i pezzi che che vengono cancellati e quanto ci vuole anche per fare un video andiamo sull'app di spuso italia non sbagliate di spuso italia lo scarichiamo eccola qui allora la installa o sono già entrato lui già automaticamente l'ho aperto e automaticamente mi è già entrato dentro dentro la sim è che fantastico cioè quindi si è già allogato già fatto tutto lui andiamo a vedere controllo costi segretaria telefonica e impostazioni nelle impostazioni trasferimento di ecco qui possiamo allora andiamo a vedere una cosa alla volta consumo e qui è la parte iniziale abbiamo visto i consumi che abbiamo quindi l'aumento diminuzione dei minuti sms eccetera 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 l'altro controllo dei costi qui abbiamo attivo chiamate sms e dati servizi a pagamento numero di telefone a tariffa maggiorata vedete disattivato chiamate sms dall'italia verso paesi extra europei è attivata qui quindi possiamo attivare disattivare quello che vogliamo segreteria telefonica sms in caso di chiamata persa quindi se vogliamo che ci arrivi un sms può personalizzare anche il saluto un po come penso come il ad e titolo lei sesso saluto dipendente dalla fascia oraria ascolto saluto dopo qui niente quella segreteria segreteria telefonica quindi come la possiamo impostare nelle impostazioni quindi nome della scheda sim bene o male quello che abbiamo visto direttamente sul sito web dispuso sms con info sul roaming e qui si può attivare trasferimento di chiamata che io non lo so non saprei quindi se qualcuno di voi lo sa se il trasferimento di chiamata ha un costo ci possiamo informare adesso però vedete sto facendo un video così mi appena arrivata quindi non conosco tante tante cose come magari alcuni di voi quindi col vostro aiuto se qualcuno lo sa se io dovesse attivare trasferimento di chiamata se ha un costo quindi se lo sapete lasciate in descrizione così almeno anche altri utenti lo possono leggere bene a posto qui come vedete ho la collezione delle sim con tutte le app le varie sim e niente è lì erano i bei dei tempi quando ero giovane e niente cosa devo dire cosa vi dico e finiamo qua riproviamo l'ultimo speed test per vedere a che velocità se è migliorata oppure no direi proprio di no non è migliorata assolutamente rimane sempre a questa velocità quindi addirittura quindi questa è una cosa una novità che non sapevo ho provato iliad è ritornato diciamo quasi come era prima rispetto a win 3 molto molto bene va bene ragazzoli io direi che con questo è tutto la proverò anche più avanti e magari in giro in città comunque ho letto tanti commenti ho visto ho letto blog forum da tante parti che molta gente comunque anche contenta anche di voi che avete scritto sotto in descrizione nel video precedente quando ho fatto l'attivazione la portabilità quindi ho acquistato la sim e la portabilità e molta gente insomma ho letto che sono sono contenti perché va molto molto bene bene ci vogliono queste questi gestori che fanno concorrenza ad altri così almeno noi consumatori ne possiamo giovare giovani si dice giovane vero amici è tutto per questo video noi ci vediamo prossimamente il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio a chi mi vuole bene ciao ciao da teto abbraccio a chi mi vuole bene